Questa gente, mio fratello, Aurelio, Paolo Molini, Simone Marco D'Ulio, questa gente non ci facciamo un consiglio su questo vaccino, ma ci metto anche l'Antonella Caputo, la Betty Falconi, il Riccardo Gaviotti, la Luisa Cornelli, sono anni che ci facciamo un mazzo così a portare avanti questo vaccino a due lire. Abbiamo rimesso su dalla media di oggi e poi, quando sono tardi, mette insieme alla scienza italiana, cambiare le cose, cambiare il programma nazionale di essere, poi ci hanno fuggito e ci hanno cancellato, per il momento di fare una ricerca bene in Italia, base, translation, portare un prodotto, ci siamo in Italia, hanno fatto cose bellissime. Sapete qual è la verità? Che ce l'hanno distrutte tutte, un pezzo alla volta, un pezzo alla volta. Gelosie? Guarda, cosa stiamo facendo? Vogliamo sviluppare qualcosa, ma l'Italia che cos'è? Adesso i nostri programmi dicono che siamo andati alle raieci nel giudizio. Ah, siamo l'unico messo al mondo? E ho detto a me lo messo messo. Ma siamo i due scicoglioni al mondo? E ci facciamo perché il nostro progetto di sciperare americani? Ma lo fa la Francia? Lo fa l'Uniterra? Lo fa la Svezia?